Ciao amici di Italiato Games, buongiorno, lunedì 19 febbraio, premiamo X e andiamo subito a vedere le novità di oggi in football 2024, vediamo se le anticipazioni di venerdì scorso erano corrette o meno, vediamo se c'è qualcos'altro oltre i due classici eventi e il pool leggende, vedremo tutto davvero fra pochissimi istanti. Non credo che ci sarà altro, però mai dire mai, andiamo sempre a controllare. Eccoli qua, confermati, Schmeichel, Petit e Dixon, erano questi, se non vado errato fatemi andare a controllare se erano questi che vi avevo detto venerdì, no, era Mertesacker, quindi ne abbiamo presi due su tre, perché erano Schmeichel, Mertesacker e Dixon. Schmeichel corretto, Dixon corretto, Petit no, Mertesacker, quindi vi dico sempre, prendete sempre quelle anticipazioni con le molle, perché si vede che sia Petit sia Mertesacker erano il ritratto, diciamo, dei giocatori che potevano esserci, non c'è Mertesacker, c'è Petit. 99, 97, 97, qualcuno diceva, vedrete che Schmeichel sarà il portiere più forte del gioco, in effetti arrivare a 99 è davvero tanta tanta roba. Eccolo qui, Schmeichel, figlio d'arte, ha qui pure un gol di testa, non mi ricordo l'evento in cui segnava di testa Schmeichel. Ecco Petit dell'Arsenal, gran bel giocatore pure Petit, quello vero dico. Da 83 passa a 97, niente male, neppure Petit. La sorpresa, diciamo, Dixon, da 83, diciamo, da 83 passa a 97, anche lui in realtà non è proprio così, ma vabbè, diciamo nella grafica lo vediamo così. Comunque, 99, 97 e 97. Al solito le leggende non è che possono, sono sempre molto interessanti, indubbiamente quello su Mykon 99 è tantissima roba. Andiamo con il bonus di accesso, la campagna di carnevale, il quinto login della settimana, andiamo a prendere 50 monete. Manutenzione Mykonami, ragazzi, oggi c'è questa manutenzione Mykonami, ma non vi preoccupate, potete giocare senza alcun problemi. al gioco, non potete andare solo nel sito Mykonami. Ah, oggi comincia, ecco, questo non me lo ricordavo, secondo i Football Championship 2024, Open Round in corso. ed è un'altra possibilità dell'Open Championship, diciamo, sostanzialmente. Premi sfida 1, 1000 punti di football, 100 GP, premi sfida 2, 50 monete di football, premi sfida 3, 50.000 GP. sfida 1, almeno un gol segnato, sfida 2, punti minimi 3.000, e questo si va a fare sostanzialmente per prendere le 50 monete. Quindi c'è qualcosa in più rispetto al previsto. Attenzione, 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 attenzione. pubblicheremo la 3.3.1 di football 2024 il 22 febbraio. Per ringraziare tutti i loro straordinari supporti, i tenti che installeranno l'aggiornamento, riceveranno un accordo al buio. Una volta installato l'aggiornamento, accedi al gioco, apri la posta in arrivo, potrai usare l'accordo al buio dopo il lancio e l'aggiornamento. Quindi arriva una nuova versione del gioco, giovedì prossimo, un aggiornamento tra virgolette minore, non che il 3.3.0 abbia portato chissà cosa, quindi eccola qui, una sorpresa che non ci aspettavamo. Arriva una nuova versione, staremo a vedere, non ci sono anticipazioni ovviamente per il momento su quali saranno i contenuti, se arriveranno ne parleremo domani assolutamente. Ecco qui, iniziamo la settimana con una mini sorpresa, diciamo. Sorpresa mi sembra troppo, stiamo parlando di una versione dietro alla seconda cifra. Andiamo a vedere gli eventi. Ecco qui, abbiamo quindi l'e-football, dettagli, ed ecco qui l'abbiamo visto, punti sfida 1, sfida 2 e sfida 3. Io mi firmo alla sfida 2 per le 50 monete. Oggi c'è pure l'evento classifica, il testing my limit, si fanno la staffetta con la cop, eccolo qui, dettagli, c'è a fare 15 partite per arrivare a dove, dove si arriva, queste le ricompense della classifica, GP e aggiuntabilità, GP e aggiuntabilità, fino alla posizione 500, cioè, fino alla posizione 500, se raggiunge anche un'abilità sotto, si prendono solo GP. 15 partite, non sono poche, vedete voi. C'è l'English Clubs, PvP, e qui con tutte le squadre ovviamente inglesi, sia della Premier League che della Serie B, se non vado errato, mi sembra che siano più di 20 squadre. Sfida 1, 50 monete, il solito. A proposito, ieri l'ho fatto con la nazionale italiana, l'evento, questo qui, il National Teams, e ragazzi, ho trovato quell'Ursolini pescato la mattina, quello del giocatore della settimana, davvero molto, molto, molto interessante. Mi ha fatto pure due gol, un bel giocatore, non l'ho usato CLD perché col 5-2-1-2, non va, l'ho usato come seconda punta uno dei due attaccanti, Capperi, che bel giocatore. Se l'avete pescato, non sottovalutate quell'Ursolini, non mi è sembrato neppure male. Comunque, ricapitolando, a livello di PvP c'è seconda possibilità di qualificarsi per il Championship Open, secondo giro, diciamo, non è quello successivo. Round 1 c'è scritto, il Testing My Limit e l'English Clubs. Quindi due possibilità di prendere 50 monete, qui e qui. Verso C.A. c'è il nuovo English Clubs e qui ci dovrebbe essere, anche qui con tutte le squadre inglesi, 30.000 GP, 30.000 GP e un'aggiunta abilità. Il resto, cioè le sfide Legend, non sono quelle nuove. Stasera, ragazzi, a proposito di campionato, c'è il mio match point per la divisione 2. Se ne vinco una, vado in divisione 2. Non mancate, alle 20, vi aspetto. Andiamo a vedere sul contratto queste tre leggende. Qui qualcuno mi chiedeva dove stanno gli allenatori. Eccoli qui. Marco, mi sembra, se non ricordo male. Ecco qui, qui è la lista allenatore. Non è che c'è solo Zico, si può prendere l'allenatore che si vuole. Così l'abbiamo mostrato anche nel video. Infine, lista giocatori speciali. Allora, qui c'è ancora la Coppa d'Asia, qui ci sono ancora i contratti mirati che durano ancora altri 16 giorni, 23 giorni. 9 giorni la Coppa d'Asia, quindi, sta per terminare, quasi, giovedì, quell'altro. Ed infine, eccoli qui, i tre League Guardians. Eccoli qui, vediamoli tutti. Vediamo anche i giocatori presenti in evidenza. No, stanno tutti lì. Eccoli qua. Kufal, terzino mattatore, TD, valutazione E. Eeeh, che fortuna pescarla adesso. Trippier, un veterano anche di PES, non lo ricordo anche in PES, Trippier. Disasio, forse Disasio, visto che è francese. Abilità giocatore, questi sono i suoi parametri. e Stupignan, terzino offensivo. Camarà, collante. Udoge, il nostro Udoge, terzino offensivo, TS, 33 livelli di crescita. Vediamo i Varane, 84, con 21 livelli di crescita. Infine Guardiol, 85, con 25 livelli di crescita. E poi andiamo a vedere le tre leggende. Petit, gustato per comportamento difensivo, contrasto, velocità e resistenza. Duelli più due. E' un bel po' di abilità giocatore. Non mancano. 31 livelli di crescita. Abbiamo Dixons, anche lui a 33, parte da 33, con 33 livelli di crescita però. Velocità, accelerazione, controllo corpo e resistenza. Agilità più due. E' un bel po' di abilità giocatore. E infine, Michael, portiere più due. Eccolo qua. Comportamento PT. Presa PT, parata PT, riflessi PT, estensione PT. Immagina una lista dei portieri verso cui imprego, dopo Cech, dopo Casillas e dopo Gann, si aggiungerà anche questo Smychol, senza quasi ombra di dubbio. Poi staremo a vedere. 193 cm di altezza, 96 kg, età 33. Portiere difensivo. Ecco, considerate il tutto per vedere se possa interessarvi o meno. A me interesserebbe, ma sapete, il pool da 150 giocatori e lascio lì dove starlo. Ragazzi, per il momento è tutto. Qualche sorpresa c'è stata. C'è questo aggiornamento 3.3.1 in arrivo giovedì. Vedremo se Konami nei prossimi giorni anticiperà qualcosa. Altrimenti, come al solito, vedremo tutto giovedì mattina. Scopriremo se ci sono novità di qualche genere sostanziale o se sarà qualche sistemazione di bug ed altro. C'è il testing my limit, c'è il football championship open, insomma qualche cosina in più rispetto ai soliti lunedì. Per il momento è tutto, vi aspetto questa sera alle 20 per il campionato. Non mancate, buon inizio di settimana. Ciao! Ciao!